Bassano dal Grappa nel segno della fotografia. Torna la manifestazione che farà di Bassano il centro della fotografia, delle immagini e delle libere interpretazioni. Per quattro mesi molti gli eventi in programma. Mostra in sette prestigiose sedi, seminari, conferenze, laboratori e un coinvolgente itinerario espositivo nelle vie, nelle piazze, negli esercizi pubblici. Tutto a Bassano si riempirà di immagini dal 14 settembre 2013 al 19 gennaio 2014.